quando si festeggia la festa di san valentino il 14 febbraio di ogni anno si festeggia la festa di san valentino la festa è stata creata dai cristiani per sostituire una festa pagana che veniva svolta in questo periodo la festa pagana che veniva Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ciao, al prossimo video, vi aspetto.